In diretta dagli studi dei fletti via Torino, il mestre... Cari amici di Frullatorio, benvenuti! Siamo nel luogo dell'Esodo, questa drammatica vicenda che colpisce i veneziani. Siamo nel luogo più tragico di Venezia, lo state vedendo in questo momento. E noi di Frullatorio siamo qui per fermare tutto questo. Non stai mica andando via da Venezia, per caso? Vai a mestre, ma torni domani, ti prego. No, dai, te ne stai andando davvero? Addio, cara. Addio per sempre. Dove stai andando? Dove stai andando? Dove? Ma resta qua, a Venezia! Dai, resta qui, ti presento le mie amiche! Scusa, scusa, scusa! Dammi un abbraccio, benvenuta a Venezia, ti prego. Dammi un abbraccio, dammi un abbraccio! La aspettiamo domani però, va bene? Cosa ci sarà domani? Venezia! Ma io vengo tutti i giorni, vedi? Ah, lei viene tutti i giorni? Vieni tutti i giorni, perché sono felice. È un'affezione, bravo! Va bene. Grazie. Trattenga i suoi nipotini qui, eh! Salve! Grazie di essere tornati a Venezia, ragazzi. Grazie. Gentilissimi. No, perché se ne vanno via tutti, capito? Almeno qualcuno torna. Ah, tu abiti qui? Grande, grande, resistente. Sempre così ti voglio. Signora? Ma lei sta andando o sta tornando da Venezia? Io sto... Sono a Venezia. È a Venezia in questo momento? Ma per rimanerci? Sì. Oh, mi diamo un abbraccio. Due baci, due baci. Rimanga a Venezia però, non se ne vada. Io sto andando a Venezia. Sì, ma devo andare a un funerale, se ne vado. Madonna, davvero? Ma di un veneziano o di un mestrino? Di un veneziano. Eh, sempre so. Eh, ti vedi? Ci sono i veneziani che muoiono. I mestrini non muoiono mai. Come i cinesi. Eh, ecco. Ecco, sarà quello. Secondo me è perché si è trasferito fuori. Non volare via, non volare. Resta Venezia. Grazie di essere tornato, davvero. Da dove? Da dove sei venuto tu? Da Martellago. Da Martellago? Per venire a Venezia? Eh. Grande, vecchio. Noi apprezziamo davvero da veneziani lo sforzo di venire fino a Venezia da questa città così distante come Martellago. Eh. Ciao! Ciao! Ma è fuori servizio? Ma non c'è nessuno. Dove li portano? Dove li stanno portando? Si fermi, signora. Si fermi. Si fermi. Si fermi. Resti qui. Resti qui con noi, signora. Dove sono le istituzioni? Dove sono le istituzioni? Dove sono le istituzioni? Dove sono? Dove sono le istituzioni? Dove sono le istituzioni? Dove sono le istituzioni? Grazie a tutti.